musica 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 che cosa sei Udano? tutto stamattina tutto stamattina che è la mia accorcia aspettate che faccio freddo ma io ho la sfortuna non è che tanto spazio stai proprio ah no che c***o hai fatto qualcosa? hai fatto male? tutto a posto dammi una mano vieni a me aspetta fammi un favore mi daresti un occhiato alla marmetta no fa come un rumorino che deve essere sganciato nella cosa soprattutto quando prende una cosa sotto eppure ora l'ho sentito beh l'hai trovato? si hai trovato? che cosa è che andava a fare? eppure 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 eppure